Ciao ragazzi, ciao! Eccoci di nuovo qui, oggi parleremo di Alexa. Allora, torniamo un attimo su l'Eco, l'Eco Dot, l'Eco Plus, il dispositivo che avete scelto, perché? Abbiamo visto che hanno tirato fuori sia Amazon, vari supermercati, varie catene, l'Eco Dot 19,90. È un'ottima offerta. Questo praticamente immetterà sul mercato molti, molti, molti nuovi utenti che si affaceranno al mondo della domotica con Alexa. Per cui ci è venuto in mente di proporre dei video di funzionalità particolari di Alexa. E quindi magari iniziamo a farne qualcuno per potervi appunto dare degli spunti da utilizzare. Anche perché comunque con l'avvento dei nuovi Eco, sicuramente quelli di vecchia generazione, passatemi il termine, caleranno ancora di prezzo secondo noi. Quindi ci sarà veramente un'emorragia di vendite per questi prodotti. E oggi quindi stavamo pensando di farvi vedere come poter sentire la musica su tutti i dispositivi. Quindi dargli un comando tramite l'app di Alexa dove dirgli guarda che quando mi riproduci questa musica col mio comando particolare che ti do devi farmela sentire su tutti i miei dispositivi. In modo tale che se io sto facendo ad esempio le faccende domestiche, sono in una stanza poi vado in un'altra, continuerò a sentire la musica. Ma prima di questo vi chiediamo di iscrivervi al canale Instagram, nuovo canale di Tutto Tech. E poi di iscrivervi naturalmente al canale di YouTube, attivare la campanella per essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Ma io direi non può mancare la nostra... Sigla! Sigla! Entriamo nell'app Alexa, clicchiamo sul tasto in alto a destra più, nel menu a tendina che compare andiamo a cliccare su configura musica multistanza. Adesso ci compare una serie di indicazioni che bisogna seguire per poter creare questa multistanza, ma sono semplicissime, anche ovvie se vogliamo. Bisogna avere tutti i dispositivi collegati alla rete elettrica e quella online, quindi devono essere online collegati a internet. I dispositivi si possono trovare nella stessa stanza o in multistanza, perché se no non ha senso. E i dispositivi possono far parte anche di più gruppi multistanza. Dopo queste semplici ovvietà, ma che comunque servono sempre, clicchiamo sul tasto Continua. Qui ci chiede di mettere la parola chiave da poter dire vocalmente ad Alexa per attivare questa funzione multistanza. Io ho pensato che bastava la parola dappertutto, quindi quando vorrò che Alexa riproduca la musica, dirò Alexa riproduci dappertutto e dirò il titolo di quello che mi serve. Facciamo avanti. Qui ci dirà di selezionare i dispositivi interessati al gruppo. Io ne ho due e li inserisco entrambi, essendo multistanza, almeno due devono essere. Clicchiamo sul tasto Salva e adesso qui ci vuole il tempo perché crei il gruppo e faccia la connessione tra questi. Ci rivediamo subito dopo quando ha finito. Ecco che sta creando il gruppo multistanza. Fatto. Ci dà anche l'indicazione che è stato creato. Scorriamo nella panel on page e sotto vedete che compare l'indicazione dappertutto musica multistanza. Andiamo a fare le prove. Alexa? Riproduci dappertutto suoni della natura. La playlist suoni della natura da Amazon Music in riproduzione sul gruppo da Piasciutto. Dopo aver creato una specie di disco in casa vostra... Eh sì, dai, si può dire così. Abbiamo fatto un discone gigante. Esatto. Avete musica dappertutto. Questa è una delle prime cose più particolari che potete fare con Alexa. Leggiamo tanti commenti di gente che dice Sì, ho comprato Alexa, però ce l'ho lì, non so cosa farci. Ha tante funzionalità in realtà Alexa. Seguiteci nei prossimi video e ne scoprirete delle altre. Sì, pensavamo di fare una serie di video molto brevi dove vi spieghiamo un po' più nel dettaglio che cosa può fare quel prodottino lì che abbiamo appoggiato sul mobile della sala piuttosto che da qualche altra parte. Perché comunque di potenzialità ne ha. Si sta sviluppando ancora, sta crescendo ancora, però nel frattempo iniziamo a usare tutto quello che ci può offrire. Io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!